Il breve racconto che intendiamo proporre riguarda la presenza, a tutti nota, di ben due statue che ricordano Giuseppe Garibaldi nella nostra città di Monza. Chi non conoscesse la storia troverebbe sicuramente curiosa questa coesistenza, soprattutto perché si tratta della medesima opera realizzata dal medesimo artista Ernesto Bazzaro, semplicemente riprodotta con materiali differenti. Garibaldi venne a Monza per due volte e ottenne, ne entrambe, una particolare adesione da parte del popolo e dell'elite politica ed economica, tanto che Achille Mapelli, poi avvocato monzese, assessore e deputato, partecipò alla spedizione dei Mille nel 1860. Per questa ragione, nel 1882, non appena si venne a sapere della morte di Garibaldi a Caprera, Monza fu tapezzata di manifesti a lutto e si provvide a mandare immediatamente le condoglianze alla famiglia. La città, in modo spontaneo, organizzò una raccolta di fondi per onorare, attraverso la creazione di una statua, il ricordo dell'eroe risorgimentale, opera che risultò essere in assoluto la prima realizzata in Italia. Venne indetto un concorso vinto dallo scultore milanese Bazzaro. La realizzazione dell'opera richiese quattro anni di lavoro e venne ricavata da un imponente blocco di marmo di Carrara. La statua, posta su un elegante basamento, decorato frontalmente da un bassorilievo bronzio, del quale tratteremo un'altra volta, venne inaugurata il 3 giugno 1886 in Piazza Isola, quella che adesso, non a caso, prende il nome di Piazza Garibaldi. Bastarono pochi anni perché l'opera andasse pesantemente rovinandosi, al punto che si staccò la mano destra, che reggeva il cappello posizionato in atto di ossequioso omaggio da parte del generale, nei confronti dei cittadini monzesi che tanto erano stati capaci di sostenerlo nelle lotte risorgimentali. Fu così che nel 1915 fu decisa la realizzazione di una seconda versione in bronzo della medesima opera. Ernesto Bazzaro si offrì di lavorare gratuitamente per consegnare la nuova creazione, che prese il posto di quella marmorea. Nel frattempo le nuove concezioni urbanistiche portarono Monza a rilevanti cambiamenti e nel 1934 si prese la decisione di spostare la statua bronzea nei boschetti reali, nella quale è tuttora possibile vederla attorniata da bei filari di alberi. La statua marmorea fu nel frattempo messa in deposito in un cortile di Vialecco fino a quando l'Associazione Mazziniani di Monzebrianza, pagandone il restauro, nel 2013 ne ha permesso la ricollocazione in prossimità della facciata del tribunale e della targa che indica via Anita Garibaldi, sua sposa. Gli esiti dell'ottimo restauro sono adesso davanti agli occhi di tutti. Mi concedo una piccola digressione. Quando ero bambina avevo convinzione certa che la statua bronzea dei Garibaldi, con il suo gesto affettuoso, con la sua mantella svolazzante, dovesse essere la più bella del mondo. Simpatia che recentemente ho capito essere stata forse rafforzata da un fattore esterno quando ho trovato in modo casuale questa cartolina. Ai suoi piedi, infatti, alla fine degli anni Sessanta c'era il capolinea del trenino dei bambini e chissà mai che non lo avessi scambiato per il capo stazione. Ultima nota. La scorsa estate sono entrata nella farmacia di Piazza Garibaldi, non trovando altrove un certo prodotto e mentre attendevo il mio turno ho girato lo sguardo verso la porta, sobbalzando. Credo che per me non sarà facile dimenticare la sensazione di sorpresa nell'aver incrociato lo sguardo con quello di Giuseppe Garibaldi, un busto bellissimo di terracotta fremente di vita dall'espressione intensa e volitiva. Le sopracciglia, dense di pensieri e di comandi già dati e alcuni ancora da impartire, si avvicinano l'un l'altra incuranti dell'unico piccolo danno che i decenni passando hanno procurato all'opera. La barba, descritta ciocca a ciocca senza però né tedio né pedanteria, pare da poco passata sotto le cure del barbiere. Il vento alza il fazzoletto al collo dell'eroe e sembra alludere agli antichi trascorsi guerreschi, mentre un paio di occhialini antichi, perfettamente corrispondenti a quelli che le fotografie ricordano sul petto di Garibaldi, rendono più familiare il suo osservarci. Al momento nulla si sa né dell'autore, né del committente, né della sua storia. Compito chi ora ci attende. Ringraziamo profondamente il dottore Andrea Ferella che con assoluta generosità ha accettato che noi si fotografasse la sua opera trovata vent'anni fa casualmente in un baule affinché sapessimo che a Monza di Garibaldi non ce ne sono due ma tre. di Garibaldi di Garibaldi Grazie a tutti.